ciao a tutti i ragazzi bentornati nel mio canale e benvenuto perché nuovo un bacione grossissimo della vostra vinci oggi vi mostro la mia routine della preparazione tutto ciò che ho cucinato per il natale per la vigilia ho fatto gli involtini di carne con il sugo e con le salsicce e poi mia suocera mi aveva aveva fatto la una teglia di cannelloni ripieni e per la per la vigilia abbiamo mangiato questo poi mentre che si cucinano i involtini faccio vedere la mia routine di pulizie vado a pulire un po la cucina il bagno è un po soggiorno e niente ragazzi vi lascio il mio video spero che questo video vi sia di di gradimento vi piace e se vi piace mi mettete un like e per chi non l'ha fatto ancora vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanella per non perdere i prossimi video allora ragazzi questo video verrà pubblicato per santo stefano perciò già gli auguri di natale ve li ho fatti perciò ora spero di prima che passi l'anno di fare un altro video e così ci facciamo gli auguri di fine anno un bacione grossissimo dalla vostra vinci che vi vuole tanto 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 bene comunque e ragazzi vi volevo dire che nel video vado a usare il detersivo d'alba questo detersivo è abbastanza buonissimo e ci sto trovando abbastanza bene perché veramente ragazzi i pavimenti mobili tutto avviene tutto ok comunque ragazzi vi lascio di mi faccio coccolare col mio video vi bacio tutti un bacione dalla vostra vinci ciao ciao questi invertini di carne sono fatti da mia suocera e sono ripieni di prosciutto mollica e un pezzettino di scalogno formaggio un pezzettino di lardo e poi vengono soffritti col vino e poi viene aggiunto il sugo e io ho aggiunto anche le salsicce comunque ragazzi mentre che si sta cucinando e la mia cena io vado a dare da aspirapolvere per terra vado a usare la mia folletto che è imbattibile e la vado a usare in cucina nel corridoio nel bagno do una bella pulitina prima che arrivano gli ospiti ciao Grazie a tutti. 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 Per il pavimento ho usato acqua calda e questo detesivo qua che si chiama sapone d'alba, ecologico. E ragazzi vi dico che mi ci sto trovando abbastanza benissimo perché è un sapone che non fa tanta schiuma però sgrassa da morire. Grazie a tutti. 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 E sono top dei top. Grazie a tutti. 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 tanti 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 bacioni. al mio prossimo video. Ciao ciao.